Musica Piccoli e grandi interventi che si trasformano in grandi emergenze. La borgata di Casuzza nel territorio di Santa Croce e Camerina necessita di una manutenzione ordinaria. Dalle scale di accesso alla ringhiera sul ponte, alle barriere protettive al ridosso delle abitazioni, non ultimo le pedane di accesso sull'arenile, la denuncia del movimento politico territorio. Le promesse bandierate in campagna elettorale tardano a essere realizzate. Due anni di amministrazione, passi il primo anno dove si è trovato quello che c'era, secondo anno ci saremmo aspettati qualcosina in più. La cosa in più che abbiamo trovato quest'anno è questo rimballo di responsabilità per la mancata raccolta e la tragedia dei rifiuti urbani che fortunatamente ci ha aiutato la natura portando con gli acquazzoni, portando a mano tutto quello che è rimasto nelle strade e nelle campagne. Il problema rimane, rimane risolto, ce lo ritroveremo, mi piacerebbe essere smentito, ce lo ritroveremo l'anno prossimo. Ma basta fare una passeggiata anche in questo periodo di metà settembre per scoprire cose che magari con la fretta dell'estate non vediamo. Le strade qua, le scale percorse dalla gente normale è completamente che sta per crollare, è pericolosissima. Si fa una passeggiata, una pista pedonale da Punta Secca fino a Casuzza e ci si dimentica questo tratto percorso da gente che va tutti i giorni alla sera e va a farsi la passeggiata nella pista pedonale qua di Marina di Ragusa. Pericolosamente si rischia di cadere giù da un momento all'altro. Con il ponte che vibra, sembra sentirlo vibrare ogni macchina che passa, con le transenne completamente diverse di un incidente stradale di due anni fa. veramente, questa è soltanto una piccola parte del nostro territorio. Forse è meglio chiuderci qua, fermarci qua, non proseguire, che chissà quale batosta dovremmo ancora in giro. Amministrazione comunale, sembra che sia che va tutto a bene, tutto a posto, d'opposizione. Votiamo anche un bilancio consuntivo accontentandoci magari di qualche mollichella adesso che ci daranno in occasione dei prossimi lavori pubblici che si faranno. Se questa è la politica che Santa Croce vuole, che se la tenga. Noi siamo di parere diverso, siamo completamente su un altro punto di vista, altri ragionamenti da fare. Se si vuole il vero sviluppo di questo territorio, agricolo vero, ma c'è anche una grande potenzialità turistica che vorremmo e potremmo sfruttare veramente. Da 30 anni trascorre le sue vacanze da queste parti, ovviamente la sua è un'esperienza, come si suol dire, a 360 gradi. Vive il periodo invernale nella lontanissima Germania, ma qual è il suo parere su questa parte del territorio di Santa Croce e Camerino? Casuzzi è un bellissimo paese, tranquillo, che veramente tranquillo, si può ancora stare in mezzo alla strada anche da sera da soli. Solo la mancanza un pochettino anche di tanti posti che non sono veramente a norma di legge, diciamo questo. Vengo spesso perché vengo volentieri, perché mi piace Casuzzi, anche che io sono nativa dal Salento, è un bellissimo paese, però a me Casuzzi mi è piaciuto molto perché ancora ci sono delle spiagge bellissime, le persone che vengono ci vengono volentieri, perché stanno bene, perché in fin di conti siamo anche una piccola famiglia in questo piccolo paese, un pochettino qualcosa, un pochettino da noi, diciamo, potremmo fare qualcosa, ma molto molto di più.